Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua con un video in cui andrò a fare i pronostici della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Una quindicesima giornata di campionato che si pronuncia molto ricca e sostanziosa, molto ricca e sostanziosa, non solo per i due big match di Inter e Juventus contro Roma e Lazio, ma anche per partite della lotta della zona salvezza, cioè Spal-Brescia e Lecce-Genua, che a me personalmente incuriosiscono abbastanza. Iniziamo però a vedere ogni singola partita e a dare i rispettivi pronostici. Iniziamo da Inter-Roma. Allora, Inter-Roma è una partita che si giocherà questa sera a San Siro, uno dei big match di questa giornata. Una partita in cui l'Inter per forza di cose parte favorita e prima in classifica, ma non sarà assolutamente semplice perché di contro a una Roma che è una squadra di buono, anzi ottimo livello, sta disputando un signore campionato. L'Inter ha delle assenze. Martedì poi dovrà giocare la partita di Champions contro il Barcellona per il passaggio del turno. Insomma, non sarà una gara assolutamente scontata per i nero-azzurri. Comunque, io come pronostico di questa partita direi uno. Dico uno, vittoria dell'Inter, perché vedo un Inter in campionato veramente molto spedita. Una squadra che, pur non partendo come favorita per la vittoria finale, ci darà dentro fino alla fine e che farà tanti punti in Serie A. La vedo un po' come l'ultimo Napoli di Sarri, quello dei 91 punti contro la Juve. Poi, Atalanta-Verona. Allora, Atalanta-Verona è una partita meno scontata di quanto può sembrare. L'Atalanta è più forte, giochi in casa, quindi per forza di cose parte favorita. Però, mercoledì avrà la partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. La testa potrebbe essere un po' in Ucraina. Un Verona, che è una squadra pugnace, una squadra che gioca sempre con tanta intensità, gioca sempre per vincere, potrebbe mettere in difficoltà la Dea. Tuttavia, non credo che i bergamaschi perderanno questa partita. E quindi, direi, Atalanta-Verona 1x più over 1,5, perché secondo me un paio di gol in questa partita li vedremo. Udinese-Napoli. Allora, come ho detto in un video che avevo fatto ieri sulla crisi del Napoli, non sono sicuro che i partenopei possano totalmente uscire da questo momento, da queste difficoltà che hanno, e quindi raggiungere l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. Però, allo stesso tempo, è assurdo pensare che il Napoli da metà ottobre a Natale non ti vinca neanche una partita. Continuo a dire, il Napoli vince, il Napoli vince. Lo do vincente, lo do vincente anche a Udine, e quindi dico Udinese-Napoli 2. Vedo una vittoria del Napoli sofferta, una vittoria del Napoli di misura, però comunque una vittoria del Napoli. Poi, Lazio-Juve. Anche qua voglio rischiare. Me la sono rischiata un po' per Inter-Roma, me la rischio anche per Lazio-Juve. Lazio-Juve, direi, 2 più gol. Dico così perché non credo che la Juve ne stecchi due di fila dopo il mezzo passo falso, dopo il pareggio in casa contro il Sassuolo. È vero, non sarà una partita semplice perché la Lazio è reduce da 6 vittorie consecutive. È terza in classifica. Prevedo una partita in cui i biancocelesti partiranno veramente a mille, metteranno in difficoltà la Juventus. Riusciranno magari anche a passare in vantaggio, però credo che alla fine la squadra di Sarri, di nervi, di inerzia, di carattere, riuscirà a ribaltarla fino alla vittoria finale. Una vittoria che vedo sofferta, arrivata un po' negli ultimi minuti. Ecco, rivedo un po' in Lazio-Juve un Atalanta-Juve di un paio di settimane fa. Poi, lunch match di domenica, Lecce-Genua, sfida salvezza, una sfida interessante, una partita da tripla. Non vedo un chiaro favorito, diciamo un 33-33-33. 33-33, forse un pochino di più Lecce, ma proprio di poco, 34-33. 33-33, comunque per questa partita non vado su un 1x2, dico gol, entrambe le squadre segnano. Poi, Sassuolo-Cagliari. Allora, in questa giornata, tra le squadre di alta classifica, il Cagliari è quella che ha la partita forse più semplice per tutta una questione di motivi. Dico questo perché le Romane sono impiegate contro le prime due della classe. L'Atalanta gioca in casa col Verona, ma avrà un po' la testa alla Champions League. Il Cagliari, invece, giocherà contro il mio Sassuolo, che sì, è reduce da un pareggio importante sul campo della Juventus. È una squadra, però, che, vero, gioca sempre a viso aperto, però se viene subito aggredita in difesa dove non siamo fenomenali e hai contro una squadra più forte, vai in difficoltà e rischi di perdere, anzi, perdi anche di brutto. Se questo dovesse succedere contro il Cagliari, che ci aggrediscono subito dalla difesa, direi che proprio è fatta. E io mi incazzerò come una bestia! Però, a parte questo, io spero vivamente di sbagliarmi, spero vivamente di sbagliarmi, però per Sassuolo-Cagliari gioco un X2. Sperando che venga fuori un X, perché veramente perdere in casa contro il Cagliari è una roba che mi sta veramente sul cazzo. Spal-Brescia, sfida-salvezza tra la penultima e l'ultima della classe. Una partita dove entrambe le squadre dovranno tassativamente vincere, una partita dove però, secondo me, subentrerà più che altro la paura di perdere. Vedo una partita schiscia, una partita tirata dove non ci saranno tanti gol, però vado un po' più con le rondinelle. Vado un po' più per il Brescia, perché è tornato Corini in panchina e la squadra potrebbe avere una carica positiva dal ritorno del vecchio allenatore. Quindi, Spal-Brescia X2. Torino-Fiorentina, partita tra un Torino che sta vivendo un inizio di stagione così un po' in chiaroscuro, sebbene nelle ultime giornate si sia lievemente ripreso. Mancherà ancora il Gallo-Belotti. Dall'altra parte c'è una Fiorentina assolutamente in crisi profonda. Tre sconfitte consecutive. Il Torino non vince in casa ormai da tantissimo tempo, però dall'altra parte è difficile pensare che la Viola ti perda quattro partite di fila. È anche difficile pensare però che il Toro ti perda la terza partita in casa consecutiva dopo i KO contro Juve ed Inter. Quindi per questa partita diciamo che vado su un 1x con un particolar occhio di riguardo verso la X. Sampdoria-Parma, una partita che vede di fronte la Sampdoria che nell'ultima giornata ha perso incredibilmente a Cagliari 4-3 dopo che era in vantaggio 3-1 ad un quarto d'ora dalla fine. Una sconfitta che potrebbe essere un contraccolpo psicologico non da poco per la banda di Ranieri. Dall'altra parte c'è un Parma che si trova in una situazione di classifica tranquilla. Una squadra un po' altalenante che è in grado di fornirti ottime prestazioni contro squadre di livello. Vedi il pareggio contro l'Inter, la vittoria contro la Roma, ma anche di regalarti prestazioni insipide, incolorie, né capo né coda contro squadre di bassa classifica. I blucerchiati hanno sicuramente più bisogno di punti rispetto al Parma e quindi per questa partita direi Sampdoria-Parma 1x. Concludiamo poi con Bologna-Milan. Entrambe le squadre sono tornate a vincere nell'ultimo turno di campionato. Una partita che onestamente io non riesco ad inquadrare benissimo. Una partita difficile da pronosticare che a me non attira neanche più di tanto se devo essere sincero. Non credo comunque che Milan perda questa gara sul campo del Bologna. Secondo me potrebbe anche portare a casa una vittoria sofferta, quindi per Bologna-Milan direi x2. Quindi, ricapitolando tutti i pronostici, Inter-Roma 1, Atalanta-Verona 1x, Piover 1,5. Udinese-Napoli 2, Lazio-Juve 2 più gol, Lecce-Genua gol, Sassuolo-Cagliari x2, Spalbrescia x2, Torino-Fiorentina 1x, Sampdoria-Parma 1x, Bologna-Milan x2. Va bene ragazzi, questi sono stati un po' i pronostici della prossima giornata di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a dirmi quali sono i vostri pronostici qua sotto nei commenti, ovviamente a spammare questo video in tutti i punti del planisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!